siamo con il dottor gianluigi de palo ecco oggi parliamo di natalità l'italia questo negli ultimi dieci anni sta affrontando una grave crisi di denatalità sempre meno nascite e quasi più morti che neonati come far fronte a questo problema io credo che la prima cosa sia prendere consapevolezza del fatto che abbiamo un obiettivo bisogna darsi un obiettivo in tutte le cose altrimenti si parla si ragiona siamo tutti d'accordo ma poi alla fine non si riesce ad essere puntuali l'obiettivo è 500.000 nuovi nati entro il 2035 non lo dice gigi de palo non lo dice la fondazione per la natalità lo dice l'istat quindi diciamo che c'è un dato prendere consapevolezza di questo dato ci aiuta poi a calibrare le politiche per arrivare a quel dato ma se non c'è questa consapevolezza di un obiettivo raggiungibile certo verificabile non andiamo da nessuna parte poi ci sono tutta una serie di azioni da fare politiche familiari in italia non sono mai state fatte si parla di quotiente familiare si parla di un assegno unico più forte si parla di conciliazione lavoro famiglia ecco diciamo è tutto molto chiaro l'analisi è chiara serve la sintesi e la sintesi è politica e necessita la collaborazione di tutti i partiti perché questo non è un tema di destra di sinistra di cento questo è un tema che riguarda il paese e quindi com'è andare avanti bisogna coinvolgere di più le istituzioni di più la politica noi facciamo un grande evento che si chiama stati generali della natalità ogni anno per cercare di mettere insieme il mondo delle banche il mondo delle imprese il mondo della sanità il mondo della politica il mondo dello sport il mondo dei media per ragionare tutti insieme però ecco bisogna passare alla sintesi la sintesi la deve fare la politica la politica deve fare un ragionamento anche abbastanza rapido perché più il tempo passa e più non si recupera 500 mila nuovi nel 2033 io credo che nel 2035 se iniziamo a lavorarci oggi perché i tempi poi si allungano e dobbiamo iniziare ad attuare quelle cose che già ci siamo detti ma non ci sono i soldi tra un po spenderemo molti più soldi per mettere le toppe alla situazione che si è creata rispetto a quelli che spenderemo qualora dessimo seguito a questo investimento che è chiamato natalità